Ben tornati, ben tornati telespettatori di Nettuno TV, ben tornati ascoltatori di Radio Nettuno, siamo in diretta, sono Francesco Spada, ringrazio Stefano Romano che con i particolari continua a girare in questa piazza maggiore che come detto minuto come minuto Bologna si sta svegliando, si sta svegliando potremmo dire davanti alle nostre telecamere, davanti ai nostri microfoni, terza settimana in piazza maggiore per il nostro gruppo editoriale che vuole raccontarvi questa città, vuole raccontarvi tanti aspetti di questa regione, proprio anche stando come dire in mezzo a voi. Stanno arrivando tanti messaggi sms, c'è la preoccupazione ovviamente avete sentito per quanto riguarda la tassa della casa, la tasi, si parla anche di politica perché il 25 di maggio si andrà a votare elezioni europee e elezioni amministrative per 255 comuni della nostra regione, l'84% dei comuni e 47 comuni invece del bolognese. Intanto l'immagine ci porta anche subito a farvi vedere in questa prima inquadratura la nostra prima ospite di questa mattina, la dottoressa Giulia Barcelloni-Corte che è amministratore delegato di Teleimpianti S.P.A. di cui parleremo e parleremo anche di un premio istituito insieme all'università. Intanto la saluta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie per la cortese ospitalità. Arremmo voluto dedicarle in qualche modo un tempo migliore ma è questo. Va benissimo, un pochino di vento così dai un po' di energia questa mattina. Allora, prima di approfondire questo tema con lei, noi torniamo sulle prime pagine dei quotidiani di Bologna, dove, cominciando dal resto del Carlino, in primo piano quello che viene, purtroppo ormai sembrano esserci pochi dubbi, è definito un vero e proprio attentato, notav, che è avvenuto proprio qui nella città di Bologna, in modo particolare nel comune di Lavino di Mezzo, dove il sabotaggio ha portato al furto di rame, ma non solo, anche sono stati incendiati alcuni pozzetti vicino ai binari. La conseguenza non è stata grave, l'unica conseguenza che c'è stata al momento è stata quella dei ritardi ieri dei treni dell'alta velocità, dai 10 ai 15 minuti, ma ovviamente in questo caso i danni potevano essere molto maggiori, rischi molto maggiori. Qui si parla di un attentato, inizialmente, notizia che abbiamo dato anche nella prima edizione del telegiornale, sembrava un semplice furto, come ahimè, ce ne sono tanti di rame, poi invece la Polizia Ferroviaria e la Procura hanno cominciato a dare un'occhiata ad altre situazioni, comprese delle scritte notav nei pressi del luogo dove erano avvenuti questi fatti, e quindi un po' alla volta la situazione dall'ipotesi di furto è improvvisamente stata definita sabotaggio e poi vero e proprio attentato. Poi si parla invece ancora della vicenda dell'eredità FAC che sembra non avere un epilogo, non ci fu estorsione, il PM, eredità contesa, la Procura chiede l'archiviazione. Ricordiamo che il prossimo, il metà giugno, quindi tra meno di un mese, la situazione della FAC potrebbe diventare ancora più complessa perché decade l'attuale Consiglio di Amministrazione, ne verrà nominato un altro dal commissario che è stato nominato dal Tribunale di Bologna, ma la cosa probabilmente più seria su cui riflettere è che, da quanto ci consta, molti dei super manager all'interno dell'impresa, degli amministratori potrebbero lasciare quella società perché, diciamo così, non riescono più a vedere un futuro, vista la situazione come si è complicata. Poi si parla anche qui, resta del Regno di Bologna, della Tasi, la Tasi va pagata entro il 16 di giugno, Bologna non ha la proroga, quindi attenzione, a Bologna si pagherà il 16 di giugno, mentre volontà del Governo definita ieri, gli altri comuni che ancora non hanno definito l'entità di questa aliquota, il tutto viene rimandato al metà di settembre. Poi, lo abbiamo ricordato in apertura di rassegna stampa, era il 20 maggio del 2012, due anni fa, quando alle 4 di notte la terra ha tremato violentemente in questa nostra regione, provocando morti, feriti e danni, danni che sono ancora ovviamente in riparazione, in ricostruzione. Nel Bolognese, Crevalcore, Pieve di Cento, i comuni, insieme a San Giovanni in Persiceto, maggiormente colpiti. Ricordo che questo pomeriggio, durante l'edizione del nostro telegiornale delle 13.15, saremo in diretta da San Giovanni in Persiceto, dalla piazza principale. Ieri siamo stati a Crevalcore, proprio per cercare di parlare con i candidati sindaci, anche del tema della ricostruzione. E poi, invece, si parla delle elezioni europee. Ieri in questa piazza, ieri mattina, durante la nostra rassegna stampa, stavano allestendo il palco che poi ha ospitato il leader greco Tsipras. I numeri parlano di 8.000 persone. Ieri in piazza c'era un po' molta sinistra bolognese. Ma si parla anche di meningite, ragazzino ricoverato, profilassi a Crespellano per una sessantina di adulti e bambini che hanno frequentato, appunto, il piccolo di Crespellano. Ma la notizia più importante da dare è che il piccolo, insomma, a 13 anni, il ragazzino è in via di miglioramento. Andiamo anche sulla prima pagina di Repubblica. Due anni dopo, via al restauro dell'osservanza, era chiusa dal 2012 per i danni provocati dal terremoto. L'elenco di tutte le opere che verranno ripristinate dal museo alla Shoah di Ferrara alla Basilica di Cento. E poi Repubblica in primo piano mette la notizia, appunto, di quanto è avvenuto ieri sera qui, in piazza Maggiore, proprio alle nostre spalle. In migliaia per applaudire Tsipras, tutta la sinistra si è ritrovata in qualche modo in piazza. Chiudiamo questa carrellata e poi subito andiamo ad approfondire il tema, l'aprico il primo ospite di questa mattina. Sisma e i dolori di quella notte, titola il Corriere di Bologna. Gabrielli, capo della protezione civile, grandiosa reazione due anni fa, la prima scossa era il 20 maggio, la seconda il 29, in ricordo oggi in Regione. Poi Guaraldi, si parla anche di Bologna Calcio, Guaraldi è il capo ultra alla trattativa con Zanetti. Il gruppo Beata Gioventù conferma, eravamo presenti, abbiamo appurato le soluzioni. Quindi il presidente Guaraldi si è portato anche il capo, uno dei capi ultra, per andare a trattare con Zanetti questa vicenda. E poi danni alla rete ferroviaria, anche sul Corriere di Bologna, c'è una firma, Notav e l'ombra del sabotaggio. Allora lasciamo, lasciamo adesso i nostri quotidiani e vengo dunque, torno a risalutare la dottoressa Giulia Barcelloni-Corti, amministratore delegato di Teleimpianti S.P.A. Allora intanto di nuovo ovviamente il benvenuto, l'occasione, c'è un premio che darete in collaborazione con S.P.A. di Bologna, di cui parleremo tra un istante. Però ci racconta qualcosa della realtà di Teleimpianti, intanto S.P.A.? Volentieri. Teleimpianti nasce a Bologna nel 1974 e opera sin dalle origini nel settore della sicurezza, della trasmissione dati e delle telecomunicazioni. Oggi Teleimpianti è una società di ingegneria, un system integrator che progetta, realizza e cura la manutenzione di importanti sistemi di sicurezza, quindi antifurti, antintrusione, controllo degli accessi, rivelamento presenze. Sul tema della sicurezza, diciamo, visto che spesso ci troviamo sui quotidiani ad affrontare questo tema, è un tema per voi, diciamo, all'ordine del giorno? Sì, molto. Anzi, ne approfitto per aggiungere che proprio nel corso del 2013 Teleimpianti ha, con grande, grandissimo orgoglio, progettato e realizzato il sistema di sicurezza per la Torre degli Asinelli di Bologna, la Basilica di San Luca, quindi simboli di eccellenza della nostra città e di questo andiamo molto orgogliosi. Ci racconta qualcosa, Torre degli Asinelli, che di fatto non è lontana da noi, la Basilica di San Petronio e di San Luca un pochino di più, ecco, diciamo, un sistema quindi che impedisce alle persone di entrare, verifica chi c'è dentro, anche per motivi di sicurezza, che nessuno rimanga dentro, diciamo così. Quindi safety e security, controlliamo gli accessi, monitoriamo la zona delle casse, monitoriamo i passaggi molto stretti e soprattutto si tratta di scale in legno e quindi è molto, ovviamente, l'attenzione rivolta all'antincendio e abbiamo anche posizionato delle telecamere sul percorso in cima alla Torre, ovviamente per motivi di sicurezza dei visitatori e che permette anche questo, appunto, il controllo delle persone che visitano la Torre stessa. Di fatto i primi risultati li abbiamo già avuti, infatti le opere dei Writer sono state totalmente annullate con i nostri impianti. Quindi diciamo che la telecamera, per quanto riguarda appunto i graffitari, per definirli così, sono un deterrente reale, insomma, quindi la gente riesce, perché sono telecamere visibili? Sì, sì, sono telecamere. Noi oggi da remoto, quindi da una qualsiasi postazione, da un iPhone, da un PC, riusciamo a vedere in tempo reale le telecamere e ovviamente le telecamere esposte sono un ottimo deterrente contro qualsiasi tipo di atto vandalico e di questo ovviamente ne andiamo molto fieri, essendo in questo caso la Torre degli Asinelli e la Basilica di San Luca i nostri simboli per eccellenza della nostra città. Teleimpianti non si occupa però solo di videosorveglianza, ma si occupa. Ci ha incuriosito parecchio però col fatto della direttore Ziannelli e della Basilica di San Luca, poi le chiedo anche qualcosa della Basilica di San Luca, anche perché ricordo che questo sabato scenderà la Madonna di San Luca a Bologna, quindi insomma alla fine è anche l'occasione per parlarne. Quindi diciamo, non vi occupate solo di questo? Ma ci occupiamo anche di sistemi di telecomunicazioni, di sicurezza a 360 gradi, quindi all'interno delle aziende ed importanti edifici ci realizziamo sistemi di controllo degli accessi, rilevamento delle presenze, sistemi di antifurta, antintrusione, appunto videosorveglianza, fino agli importanti sistemi di building automation volti a risparmio energetico, che consentono appunto, come dice la parola stessa, ad un'automazione totale di un edificio, volta al comfort delle persone e quindi a un'automazione completa dell'edificio. Questo è un tema molto molto caldo per teleimpianti, dove stiamo investendo molto in ricerca e sviluppo, in nuove appunto tecnologie negli ultimi anni, ed è un tema che si lega al premio che abbiamo istituito quest'anno in occasione del quarantesimo anno di teleimpianti S.P.A. Intanto possiamo dire che è un'azienda bolognese? Nata a Bologna nel 1974, fondata dall'ingegnere Maurizio Barcelloni Corte, a cui appunto abbiamo avuto l'onore di dedicare il premio Maurizio Barcelloni Corte, in occasione del quarantesimo anno della fondazione. Allora, è un premio che nasce in collaborazione con l'Università di Bologna, no? Proprio quella che è la scuola di ingegneria e architettura di questa università bolognese. Sì, il premio è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'Università di Ingegneria di Bologna, precisamente con la scuola di ingegneria e architettura della Facoltà di Ingegneria di Bologna, e consiste in una borsa di studio che verrà assegnata alla miglior tesi realizzata da uno studente che sta frequentando il master in gestione dell'energia e che è un tema appunto molto caldo per teleimpianti, gestione dell'energia, quindi un tema che si sposa perfettamente con il tema della building automation, volta al comfort e al risparmio energetico. Allora, con la dottoressa, ricordiamo Giulia Barcelloni Corte, teleimpianti S.P.A. mi sono delegato, quindi il premio è già stato assegnato o vengono posti gli elementi, le basi per assegnarlo? Il premio è stato istituito proprio in questi mesi, quindi non è ancora stato assegnato, ma gli studenti stanno proprio frequentando adesso questo master. e il 12 aprile abbiamo anche avuto il primo intervento di teleimpianti S.P.A. con i propri ingegneri all'interno del master sul tema della building automation e verrà assegnato nei prossimi mesi al termine del corso, quindi a seguito della preparazione delle tesi finali del corso. Allora, coinvolgere e legare il mondo del lavoro al mondo dell'università è sempre, come dire, è un'impresa importante, un aspetto importante, farlo attraverso un premio, stimolando diverse realtà, però è un contatto che ci deve essere tra chi fa impresa e chi fa, diciamo così, accademia. Direi che è fondamentale portare i giovani neolaureati in azienda, i giovani ingegneri nel nostro caso, perché i giovani sono il motore trainante del nostro futuro, e nuove tecnologie ricerca e sviluppo vanno appunto a braccetto con le competenze che un neolaureato, nel nostro caso di ingegneria, può portare alla nostra azienda. Intanto intorno a noi ovviamente c'è il movimento tipico della piazza di quest'ora, quindi arrivano i camion dei fornitori che scaricano, c'è il movimento delle persone, vi stiamo tutto raccontando e testimoniando in diretta, non solo televisiva, non solo in streaming, ma anche ovviamente attraverso la radio. La risposta qual è stata? Diciamo, i giovani sono attirati da venire un po' a mettere le mani in pasta nell'azienda, cosa avete riscontrato? Non sono ancora entrati fisicamente in teleimpianti, il primo step è stato appunto quello di partecipare come relatori al Master, e nei prossimi mesi ospiteremo una persona all'interno dell'azienda e metterà mano e quindi frequenterà la nostra azienda su alcuni progetti che stiamo appunto mettendo in piedi in questi mesi sul tema della building automation, che è un tema appunto molto importante per noi. Oggi all'interno di un edificio noi siamo in grado di monitorare, controllare tutti i sistemi di sicurezza, ma anche tutti gli impianti meccanici e gli impianti di condizionamento, riusciamo a far sì che il comfort e il risparmio sia perfettamente in linea con una struttura che è creata con le migliori tecnologie possibili e riscontrabili sul mercato. Quindi apriamo una finestra e gli impianti di condizionamento vengono ad essere aperti o chiusi in base alla temperatura esterna, le luci vengono ad essere accese o spente in base alla presenza delle persone. Non è fantascienza, ma è in realtà. Sì, in base alla luminosità delle persone riusciamo a controllare in tempo reale i consumi energetici che stiamo consumando oppure che stiamo producendo. Quindi in un edificio oggi, grazie agli impianti che Teleimpianti progetta e realizza ad hoc per determinate clientele, riusciamo a creare un edificio completamente automatizzato. Quindi questo è automatizzato, quindi questo incide anche ovviamente sul risparmio energetico concretamente. Se ci siamo si accendono le luci, se ci allontaniamo ci spegniamo, questa è un'operazione che in casa spesso dobbiamo fare richiamando magari anche figli, lasciato acceso di qua, lasciato acceso di su, la luce è quantata. Quindi cose molto concrete, passaggi molto concreti. Senta, approfitto, ieri abbiamo avuto qui in questa nostra postazione, abbiamo ospitato il responsabile di una realtà che è Innovami di Imolo, un incubatore che cerca idee innovative. Ci ha portato alcune imprese, ma io l'abbiamo scoperto che sono più gli uomini a buttarsi nelle start-up. Allora lei, come dire, da giovane donna, amministratore delegato di Teleimpianti S.P.A., il mondo dell'impresa, diciamo, fa ancora fatica a far fare impresa al femminile? Allora, diciamo che Teleimpianti è la seconda generazione, partita con una generazione di uomini, adesso sta continuando con una generazione di donne e per la mia esperienza, che non è così lunga, posso dire che le donne stanno sicuramente mettendo sempre più piede nel mondo del lavoro e sono sicura, anzi sono certa, che questo porti grandi, grandissimi risultati. Non è una minaccia, diciamo questo? No, assolutamente. Senti, allora, questo appuntamento è il 22 di maggio, dove verrà in qualche modo presentato ufficialmente questo premio Teleimpianti insieme all'Università di Bologna, come si svilupperà un po' questo 22 maggio e quindi come arriverà un po' l'informazione e la comunicazione anche alle persone che possono ancora aderire quindi a questo premio, gli studenti? Sì, allora, no, gli studenti hanno già aderito perché stanno aderendo tutti gli studenti all'interno del master che abbiamo appunto deciso questa collaborazione all'interno di solo questo master quindi gli studenti che frequentano questo master... Un percorso che stanno facendo già adesso, diciamo? Già adesso in questo master organizzato dall'Università di Ingegneria di Bologna e gli studenti sono circa una trentina, sono giovani ingegneri che frequentando questo master hanno la possibilità, attraverso appunto la presentazione della loro tesi finale, di poter concorrere al premio Morizzo Barcelloni Corte Il premio verrà presentato ufficialmente alla stampa il 22 di maggio alle ore 12, in Viale Risorgimento 2 dove appunto abbiamo... La serie dell'Università, ricordiamo, di Bologna? Della Università di Bologna di Ingegneria, dove appunto il fondatore nel 1968 si laureò in Ingegneria E' un premio appunto molto sentito e molto voluto e molto desiderato che va appunto a cadere proprio in questo anno molto importante per teleimpianti in cui appunto festeggiamo il quarantesimo anno di attività Va bene, allora io ringrazio la dottoressa Giulia Barcelloni Corte amministratore delegato di teleimpianti S.P.A. di Bologna il fatto che sia un'impresa di Bologna avete sentito anche voi un po' la crisi? Perché finora ci ha raccontato un mondo davvero molto bello, importante complimenti, ma la crisi è stata in qualche modo, ha raggiunto anche voi? Allora, abbiamo avuto anche noi qualche piccolo sentore ma fortunatamente nulla di preoccupante anzi devo dire che il settore della sicurezza è molto molto in crescita abbiamo avuto un periodo quindi di tranquillità e anzi di molto molto impegno perché è proprio in questi momenti che bisogna impegnarsi ancora di più cercare di essere sempre all'avanguardia e di proporre nuove tecnologie come credo che stiamo e spero che stiamo facendo Allora, prima di salutarla però, avevo promesso anche a chi ci segue della Torre di Asinelli, del sistema di impianto di controllo di sicurezza ne abbiamo parlato Basilica di San Luca che tra l'altro oggi verrà presentata alla stampa la cupola, una cripta, quindi Basilica di San Luca che viene restituita tra tanti anche da questo punto di vista del restauro c'è il tema anche della sicurezza, quindi lì invece cosa avviene? Come monitorate? All'interno della Basilica di San Luca abbiamo realizzato un sistema di sicurezza in accordo con la sovrintendenza e video sorvegliamo una parte dell'ingresso della Basilica alcune immagini che sono appunto, oltre all'immagine sacra della Madonna anche alcuni dipinti molto importanti che sono custoditi all'interno della Basilica e un'area dove avviene una, che si chiama appunto l'area dei ricordini dove vengono appunto venduti alcune immagini e ricordini appunto per quanto riguarda la Basilica di San Luca e anche lì abbiamo avuto già i primi riscontri infatti è stato video sorvegliato e controllato e scoperto un ladro che metteva a mano le offerte E quindi è stato beccato subito, quindi diciamo non si sfugge Allora, bene, io ringrazio la dottoressa Giulia Barcelloni-Corte grazie, buon lavoro davvero grazie di essere stata con noi in questa mattinata mentre il vento continua effettivamente anche ad accarezzare diciamo così la nostra postazione televisiva grazie e buon lavoro Grazie anche a voi, buona giornata Allora, noi ci fermiamo, arriva il break pubblicitario tra poco torneremo in diretta qui Piazza Maggiore, Nettuno TV, Radio Nettuno altri ospiti, arriva anche la politica state con noi Grazie Grazie Grazie